Sì, buonasera a tutti, mi chiamo Campanile Armando, premetto che non sono di San Donato, però sono milanista, ma tanto milanista essendo anche andato a Barcellona ai tempi per cui ho seguito, andavo allo stadio, ero uno degli famosi ultras dello stadio. Finisco, dico due cose velocissime. Allora, esce fuori la notizia che a San Donato ci potrebbe forse pensare che doveva nascere uno stadio del Milan e io come milanista, contentissimo, dico, avuto qua in Via Mecenate, ci metto due minuti, cinque minuti, dieci minuti, è facilissimo arrivare qua, che bello, ho lo stadio vicino e la mia squadra vicina. Poi siamo venuti per caso a una riunione qui qualche mese fa, due mesi fa, due o tre mesi fa e ero lì seduto, ascoltavo, ascoltato, ascoltato, mi sono guardato in giro. Poi, uscito da qua, gli altri giorni ho cominciato a vagare per San Donato, andavo in giro, sono andato a vedere il, come si chiama il posto? San Francesco, ho guardato, ho visto la situazione, ho visto il posto e ho detto ma, e ho cominciato a avere dei dubbi, ho detto ma, beh, lo stadio qua vicino, il Milan siamo qua vicino, però, poi ho parlato con un'altra gente, sono tornato stasera, ne avete lasciato fuori, l'ho sentito al telefonino, sono entrato e ho ascoltato, ascoltato e ho detto, cavolo, questa gente ha ragione, cioè questa gente ha ragione, questa gente sta dicendo una cosa sacrosanta, nella mia città piccolina, questa cosa piccolissima che confronta, parentesi, a Milano, Sala, per dieci minuti ha cercato di fare lo stadio alla Maura, lo sapete tutti benissimo, dopo un quarto d'ora la gente le ha detto, ma no, tu sei matto, qui non lo farai mai, e le ho detto, ok, non lo faccio. Questo è possibile per cui dire no al Milan, non è obbligatorio dire sì al Milan, non sono, nonostante sia la mia squadra. Io di domande ne avrei tantissime, perché dopo aver ascoltato questa gente ho detto, ma qui ce ne sono un milione di domande da fare, però, signor Sindaco, mi spiace dirlo, ma lei non ha risposto forse a una domanda, a zero domande, neanche a una, ha sempre evaso. Benissimo, va benissimo, la politica so come funziona, come funziona, però gli ricordo, gli ricordo una cosa, come ho ricordato a Sala altre volte, quando abbiamo parlato per quello che faceva e succedeva a Milano, questa gente qui sono le persone che abitano questo paese, sono i cittadini di questo paese, lei è il sindaco, ma lei è parte di questi cittadini, lei rappresenta questa città e rappresenta questi cittadini, tutti i cittadini, dal primo all'ultimo, se questi cittadini li mettono in discussione, gli dicono che questo stadio a San Donato non può andare bene, non va bene, non funziona, creerà tutti i problemi che gli hanno chiesto, lei dovrebbe ascoltarli, dovrebbe alzarsi e andare in giunta e dire, ragazzi, la gente, questa città dice che questo stadio non va bene, chi se ne prega se mi danno soldi, se mi faranno rifare San Donato, le strade, i marciapiedi, non ci interessa, però io ho il dubbio, questo dubbio, poi vi metto, ho il dubbio, questo dubbio è fortissimo, che lei lo stadio lo farà comunque, a meno che, e io sono convinto che il Milan farà un passo indietro, e il Milan decida di non farlo, perché dall'altra parte il numero uno sindaco, quello della città metropolitana, probabilmente lo stadio di San Siro non se lo può tenere vuoto, per cui in qualche modo lo romperà, perché il Milan, e io in finale gli chiedo un favore a lei, facci un favore a loro, ma facci un favore anche a me, perché io preferisco che il Milan resti a San Siro, giochi in quel bellissimo stadio, che quello stadio venga, come ha detto qui, quell'altra riunione, il Tecno che ha detto che è possibile ristrutturarlo giocandoci dentro, e per cui siamo tutti felici e tutti contenti, tutti, loro, ma anche quelli che lo vogliono, anche quelli che probabilmente sono milanisti, che non hanno capito che il fatto di averlo qui non è una gioia, ma è un problema, prendono la sola metropolitana da qui e se ne vanno a San Siro a guardarlo, e poi gli dico, perché qualcuno ha detto delle palle, vada a chiedere veramente ai cittadini intorno a San Siro se sono felici di avere le partite, vada a chiederglielo veramente. Seconda cosa, io sono un vecchio adesso, finito, finito, quando ero un ragazzino giovane, quando assicuro che ero dentro la fossa dei leoni, qualcuno se la ricorda, sai quante volte ci siamo presi a botte fuori dello stadio, dei dintorni, vicino, è sempre successo, è sempre succederà, perché purtroppo gli Ultras, io non lo sono più, purtroppo gli Ultras sono così, cioè vivono questa cosa in questo modo e può succedere che qui magari fra Milan e, che ne so, non so adesso quali sono le tipuserie avversarie, arrivano qua in 5.000 e si prendono a botte per tutto San Donato, ma è normale, sta nella verità delle cose, succede questo, questo è quello che succede, per cui una bella dosi di orgoglio, se non dica no, Milan dico grazie, ma i miei cittadini a San Donato, lo stadio non lo vogliono. Grazie. Allora, nel passare... Grazie. 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 Grazie.